Io mi chiamo Elisa e ho 29 anni. Mi chiamo Achille e ho 93 anni. Io ho paura della morte come tutti. Certo, da giovane ci pensi poco, anche se qualcuno ci ha pensato da 28 anni. Non la vedo come una cosa totalmente negativa, semplicemente ho paura di soffrire. Il testamento biologico, un certo di dignità. Il biotestamento è uno strumento che permette di scrivere nero su bianco e proprie volontà legate ai trattamenti sanitari del fine vita. Ho scelto come fiduciario i miei due figli. E io ho scelto due amici. Perché mi fido di loro e affido loro la mia ultima fase della vita. Ho scelto due amici perché gli amici per me sono stati anche in passato la mia famiglia. Mi sono fatto spiegare esattamente cos'era. Bidas mi ha aiutato mettendomi a disposizione un modulo proprio sul loro sito, grazie al quale poi sono stata ricontattata. E il medico e lo psicologo mi hanno accompagnato proprio nel redigere anche il biotestamento. Mi ha dato più tranquillità redigere il biotestamento, assolutamente sì. Sarà un passaggio proprio sereno perché qualcuno mi aiuterà a passare. I miei amici erano contenti e una mia amica si è anche commossa quando gli ho chiesto di essere la mia fiduciaria. La mia famiglia si è un po' stranita perché effettivamente sono molto giovane. Quando ho comunicato che hai fatto il testamento biologico mi hanno detto hai fatto bene. Se utilizzasse questo strumento la sua ricchiaia potrebbe essere più tranquilla. Sì, ho un messaggio per chi non conosce il biotestamento che è quello di andare sul sito Vidas, informarsi, perché non soltanto si può fare online oltre che in presenza, ma è totalmente gratuito. Ci vuoi ripensare un'edà a mille? Un'edà a 33? Un'edà a... Un'edà a 33? Un'edà a 33?